vediamo la temperatura di stampa ed eventualmente la temperatura del piano abbiamo finito la scorsa volta con la velocità di stampa e abbiamo visto che la velocità di stampa è relativa alla temperatura di stampa e la temperatura di stampa che si utilizza è sempre relativa al materiale di stampa che si impiega oltre che alla stampante le stampanti possono variare da 15 massimo 20 gradi di differenza nel senso che una può leggere una temperatura inferiore e l'altra superiore è praticamente la tolleranza che le stampanti possono avere al di là di questa, per risolvere diciamo questo problema della temperatura che è differente da stampante a stampante voi prima di, c'è la prima volta che accendete la stampante accendete ed avviate lo tend fino a 200 gradi o 190 gradi inserite del PLA ed estrudete sia a mano che con la rotellina e se il materiale esce fluido e non sforza vuol dire che è abbastanza buono la situazione, cioè sicuramente quella temperatura stamperà bene se il materiale è troppo liquido, lo trovate, ce lo vedete subito, alcune volte scoppietta anche è troppo alta, però dovete trovare quella temperatura giusta affinché il PLA esca in modo fluido non preoccupatevi se magari vi sembra alta, io arrivo fino a 225 con il PLA qua ho impostato 265, quindi a seconda, se avviate la stampante per la prima volta fate questa prova manualmente, estrudete e guardate quando avete il vostro valore voi impostate per il PLA quasi sempre quella se è una stampa veloce aumentate di qualche grado la temperatura perché il materiale passa più velocemente se utilizzate un materiale speciale come questo che sto utilizzando io che è PET con il carbonio è da tenere a una temperatura molto alta io tengo 265 e quindi con altri materiali potrebbe essere 230 o 240 tipo il PET normale e a seconda del materiale dovete modificare questo valore se cercate il valore di stampa, cioè la temperatura, il valore della temperatura da tenere per il PLA 200 barra 220, per l'ABS non lo stampo quindi non lo so, per il PET con il carbonio 265 mentre per il PET normale 240 o 245 dipende dal PET e la temperatura del piano di stampa no, stampando ABS io non la utilizzo più ci sono dei PET per esempio che non ritraggono, PET neutri o comunque PET colorati che non ritraggono tendete a usarlo sempre meno perché ci sono degli alti consumi o diciamo anche che scalda di più, scalda di più la stanza e è da impiegare solo se stampate ABS sicuramente dovete averlo perché quello altrimenti ritira ho provato a stampare per esempio del polipropilene su dell'altro polipropilene che ho preso un tagliere e l'ho appoggiato e anche il polipropilene può essere stampato a piano freddo importantissima questa questione del piano perché in generale si consuma meno se durante la stampa vi accorgete che rimangono dei filini probabilmente la temperatura di stampa è troppo alta, troppo alta quindi è da diminuire attenzione sempre a non abbondare con la temperatura di stampa, cioè non eccedere perché il materiale tipo PLA potrebbe anche magari carbonizzare un po' e ve ne accorgete dal fatto che state stampando e la stampa esce un po' con delle macchie nere può essere indice o di temperatura troppo alta e poi anche del fatto che dentro il tubo di PTFE sia sporco se utilizzate una temperatura alta è ovvio che l'hotend va aperto e richiuso, cioè va aperto, pulito e riassemblato più volte, se utilizzate temperature medie e giuste lo dovrete aprire e chiudere molto poco ovviamente se usate temperature alte il materiale rimarrà un po' più compatto, più rigido quindi scegliete voi stare con temperature alte o stare con temperature medie il PLA come gli altri materiali hanno una temperatura giusta a cui essere estrusi ma hanno anche una tolleranza e per esempio potete stamparli a 10 gradi in più o 10 gradi in meno fate i test eventualmente con tutti i materiali, per esempio l'ABS se non è stampato a temperature alte e in una camera chiusa calda tende ad elaminare quindi staccarsi layer con layer PLA se lo stampiamo a temperature alte invece non si stacca insomma sulla temperatura non c'è molto da vedere in cura ma c'è molto da vedere alla stampante se questo video ti è stato utile continua a mettere un bel like e continua a guardare la playlist alla prossima Grazie a tutti